E' forte, eh? Fra, vieni qua. Vieni qua. Fagli il filmato. Fagli il filmato. E' anche tanto piccolo. Eh, che bellino, eh? Vai, bro. 4 kg. No? Davi. Attento, eh? Senza romperti la gola, eh? Solo un pochettino che lo lanciamo. Diamo la carpa di Odi. Di Odi? Di Odi. Eh. Cu pline zic, nu? Ha? Cu pline zic, nu? Da. Se avut cum sa baga. Ah, asa. S-au ficati. qui. Ecco. 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 Acum vã fac, vã arat ca eu sunt un pescat sportiv. Grazie Via Vai da me Vai di là da me